torna di attualità la bella canzone di lucio dalla e non per motivi artistici il lupo una specie protetta dalla legge italiana ed europea è tornato a popolare le zone collinarie e montane della regione riportando nel contempo grande ricchezza dal punto di vista faunistico ma anche grande pericolo per le aziende di allevamento e qui io ho avuto già un attacco insomma c'avevo un cane solo che non era neanche tanto bravo insomma con le con le pecore e poi non c'aveva la recinzione a 5 6 chilometri da qua sono stati monitorati una coppia di lupi che hanno aggredito degli animali ogni anno sugli appennini bianoromagnoli ci sono 130 episodi di predazione di allevamenti da parte del lupo con circa 6 700 ovini uccisi fenomeno ha assunto una dimensione preoccupante per questo abbiamo deciso di attivare un'iniziativa per proteggere gli allevamenti dalle predazioni la sofferenza in termini economici di gestione degli animali e di tranquillità degli allevatori ha dunque spinto la regione Emilia Romagna ad intervenire dopo un ciclo di incontri sul territorio per comprendere le problematiche specifiche sono stati stanziati 225 mila euro per finanziare un bando per l'acquisto di sistemi di prevenzione sono 78 le domande di aziende zootecniche finanziate e sono già iniziati i sopralluoghi dei tecnici per mirare gli interventi daremo la priorità a chi ha già subito danni se le risorse non saranno sufficienti verranno integrate ulteriormente peraltro abbiamo previsto nel nuovo programma di sviluppo rurale 3 milioni di euro per proteggere le aziende agricole dalle predazioni della fauna selvatica ma come ci si difende dal lupo siamo andati a verificare sul territorio la tipologia di interventi già realizzati in alcuni allevamenti fondamentalmente gli interventi che andiamo a proporre sono recinzioni che sono di tipologia diversa da recinzioni tradizionali che impediscano nel passaggio del lupo a recinzioni elettrificate o di tipo misto che in qualche modo hanno dei costi più bassi quindi permettano di coprire di garantire delle delle dimensioni maggiori oltre a questo diffondiamo dei cani cani di selezione attitudinale quindi i cani che hanno in qualche modo stampato nel loro dna l'attitudine a difendere gli animali al pascolo e oltre a questo anche degli strumenti elettronici che sono dei dissuasori che permettano diciamo di contenere la problematica soprattutto in certi contesti la combinazione di queste tre soluzioni permette azienda per azienda di trovare diciamo un una ricetta diciamo che probabilmente gli permetterà non di eliminare completamente il problema in banda riportare le dimensioni sostenibili all'attività questo contributo ci si è avuto si è fatto la recinzione elettrica e poi ho preso un altro cane da un pastore insomma bravo e ci ho avuto un altro attacco qualche un paio di mesi fa però poi dopo basta insomma non ci ho più avuto insomma le cose a me mi sono migliorate poi si si insomma funziona insomma in questo caso l'allevamento Giasone dove vengono allevate capre e cashmere siamo intervenuti con una consegna di cani marmani cuccioli che si sono ben integrati nell'allevamento dopodiché abbiamo potenziato la difesa attraverso sistemi dei dissuasori visivi e sonori con questi nuovi dispositivi non direi che sono sicuri al cento per cento ma sono molto sicuro perché oltre all'elettrificazione e dissuasori ci sono i cani che sono eccezionali secondo me è il vero cane da a proteggere gli animali perché sono molto territoriali e tutto quello che c'è nel recinto allora lo proteggono le esperienze sono state condotte finora ci permettono di ipotizzare una riduzione molto consistente delle predazioni e i risultati per esempio per quanto riguarda la toscana delle recinzioni elettrificate è stato estremamente positivo con riduzioni superiori al 90 per cento dei casi d'ingresso chiaramente a fronte però ad un impegno e questo è bene gli allevatori che fanno questa scelta siano consapevoli che ogni intervento andiamo a fare comporta per loro in qualche modo un aggravio diciamo gestionale dell'attività cani recinzioni ed allarmi per far dormire tranquilli animali ed allevatori d'ora in poi fermo restando che si deve sempre stare attenti al lupo anche il lupo dovrà stare attento